Istruzioni di montaggio per una trimestrale soddisfacente. L'autrice è la finlandese Ikea, che nell'anno fiscale chiuso ad agosto riporta risultati record. Grazie alla ripresa dei consumi in paesi come Russia, Cina e Stati Uniti, il colosso dell'arredamento fai-da-te ha registrato un utile netto in aumento a 3,3 miliardi di euro. Segnali positivi sono arrivati anche dall'Europa Mediterranea, anche se le vendite sono rallentate in Italia e Spagna. Per il nuovo anno Ikea dice di voler puntare su nuovi mercati come l'India, ma a smontare le sue ambizioni potrebbero intervenire i tanti concorrenti, apparsi in particolare nel settore online.